Italia e Libia, protagoniste anche alla Farnesina. Il 7 novembre, un giorno dopo la sua visita a Tripoli, il ministro degli esteri Giulio Terzi è intervenuto alla presentazione del libro fotografico La mia Libia, di Marina Cicogna. Durante l'evento, il capo della diplomazia italiana ha rimarcato l'impegno italiano nel paese nordafricano. Credo che il fatto di vederci oggi sia stato per me proprio un motivo ulteriore, anche di profondità, di spessore culturale, di andare lì con una consapevolezza cresciuta dopo aver scorso questo meraviglioso libro della responsabilità che abbiamo noi italiani, che ha questo nostro grandissimo paese, questo paese di proiezione globale, come voglio sempre ripetere, nei confronti di un altro paese che ha così tanto sofferto in questi ultimi 40 anni. Ho la sensazione che il mondo stia viaggiando, grazie anche all'eroismo di queste giovani generazioni delle primavere arabe, stia obbligando e stia incoraggiando tutti, anche noi occidentali, a prendere dei punti di riferimento, che non possono che essere valoriali, basati sull'interesse nazionale, ma anche di grande senso di responsabilità. Una testimonianza d'amore per un paese ora martoriato, per la cultura e la serenità, tra gente di etnie e religioni differenti. E' questa la riflessione da cui è partita Marina Cicogna, già nota produttrice cinematografica, che ha vissuto in Libia e ha voluto raccontarla attraverso foto che hanno come filo conduttore l'intensa amicizia tra italiani e libici. Il Mediterraneo per me rimane il mio cuore, rimane la base di tutto quello che io amo, di tutto quello che ho imparato. Il Mediterraneo è noi, fa parte di noi e il nostro sangue. La Libia è in centro a questo Mediterraneo, lì seduta davanti a noi, dall'altra parte, proprio delle nostre sponde. Ed è un paese che è stato parte della storia della mia famiglia, della famiglia di mia madre, visto che il primo governatore della Libia è stato mio nonno Volpi, all'epoca di Giolitti. L'amore per la Libia forse fa parte del mio DNA. Questo libro è la testimonianza del fatto che questo paese che io ho molto amato è un paese che fa parte proprio veramente, come reto ministro, del nostro passato, del nostro presente e spero anche, in una certa qual maniera, il nostro futuro. Questa rievocazione così toccante, anche intima per molti aspetti, di sentimenti, di passione che si vede riflessa in queste pagine. Una storia di grandi uomini e grandi donne del nostro mondo, dell'Italia, ma anche una grande storia di come questo straordinario fattore umano di personalità italiana ha saputo comprendere, capire, vivere ed essere sentita amica dalla realtà di un contesto che forse era così lontano, ma che torna ad essere vicino. Grazie a tutti.